Abbiamo avuto ieri un contatto con il governo che dalle notizie è andato molto male sul 1 gennaio per la città metropolitana. È andato il vice sindaco Sodano che mi ha riferito che le notizie che vengono da Roma sono queste. Cioè il 1 gennaio entra in vigore la città metropolitana. Il governo non ha messo un euro, non ha allentato il patto di stabilità, quindi noi secondo il governo non potremmo spendere i 130 milioni che sono in cassa in provincia. Quindi siccome la provincia ci consegna un bilancio con investimenti, ad esempio, zero sulle scuole e pochissimo sulle strade, ci sta consegnando un incendio devastante. Terza, il taglio del 30% del personale. Questo incontro con Del Rio, come ha detto Sodano, è andato molto male. Trovo grave che ci sia un'assoluta incapacità di gestire una fase così importante. Questa è una riforma che prende il nome tra l'altro del Rio, che il governo ha fortemente voluto e la sta consegnando in condizioni molto difficili e complicate ai sindaci delle città metropolitane e ai consiglieri metropolitani. Le notizie arrivano dal governo, sono assolutamente negative. Su Bagnolo il governo continua a tacere. Noi il messaggio l'abbiamo mandato, deve rivedere la norma sullo sblocca itale, eliminare il commissariamento e procedere con i poteri ordinari come prevede la Costituzione. Insomma, Napoli o una porzione di Napoli così importante non può essere assolutamente commissariata. Appena verrà nominato il commissario, noi impugneremo al TAR con richiesta di sospensiva la nomina del commissario. Mi sento di aderire a questa manifestazione. Obrevendo di farci il sindaco, quindi nel rispetto delle scelte dei sindacati, ma sento di aderire perché sono assolutamente contrario alle politiche che il governo sta mettendo in atto. Ancora una volta una filosofia liberista che ritiene che il freno all'economia siano i diritti. Invece oggi in piazza c'è un popolo di lavoratrici e lavoratori, studenti, di precari e disoccupati che dicono che l'economia riparte in un altro modo, non eliminando i diritti. Quindi credo che questa tensione sociale che il governo sta acuendo è molto pericolosa. Invece di cercare di dare risposte alternative a un disagio sociale, a una ridistribuzione del reddito, a una lotta alle disuguaglianze, si continua ancora una volta a stare vicino da parte di Renzi ai poteri forti che lui dice qualche volta che stanno contro. E lui in questo momento ha l'espressione migliore, nel senso peggiore del termine, dei poteri forti. Quindi oggi credo che chi manifesta, manifesta un disagio e ha il mio sostegno personale.